Intelligenza e magistratura dalla diffidenza reciproca alla collaborazione necessaria è il libro che Mario Caligiuri ha presentato nella sede della Facoltà di Sociologia dell'Università Magna Grecia di Catanzaro tra gli interventi anche quello di Francesco Jacopino, avvocato penalista del Foro di Catanzaro e Domenico Guarascio, sostituto procuratore della DDA catanzarese. È importante parlare di intelligenza perché è uno strumento fondamentale per difendere la democrazia e contrastare i nemici comuni che sono rappresentati dalla criminalità organizzata e dal fondamentalismo islamico. Ci bisogna quindi dell'apporto di tutte le istituzioni dello Stato che devono passare dalla diffidenza reciproca alla collaborazione necessaria. Il collegamento tra intelligenza e magistratura ci richiama subito il fenomeno ai noi un po' costante di inquinamento di alcuni aspetti nevralgici della società calabrese. La sensibilità verso questi argomenti di una istituzione, quella del coordinatore del corso di aula in sociologia, dell'ordine degli avvocati, la magistratura, testimonia come non soltanto il fenomeno in sé ma tutti gli aspetti che riguardano la possibilità di soluzione a questo fenomeno trova la sensibilità di tutti. Rossella Galati per l'AC News 24